Cosa vuol dire per me salire sul palco con questo soggetto, con queste leimei? Mi dicono tutti, ma che voce c'ha? Dico, non lo so, non ho ancora capito nemmeno io. Che voce c'ha? Neanche lei. E auguro a tutti i genitori di avere il piacere, il piacere soprattutto di fare una roba del genere, fare della musica, fare dell'arte insieme ai propri figli è una cosa impagabile. Ok. Grazie. 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 Grazie.